Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata alla storia degli arabi che stiamo raccontando a partire dalla loro conversione all'Islam fino a capire come negli anni successivi riuscirono a creare il grande impero che cambiò la storia del mondo. Domenica scorsa, al netto di una puntata che sono stato molto lieto vi sia piaciuta, dedicata a cosa pensino gli storici della storia di Maometto, così come viene raccontato nel mondo islamico, abbiamo però raccontato anche come il profeta dell'Islam nel 632 fosse morto e di come a succedergli fosse stato suo suocero, cioè Abu Bakr, una successione che fin dall'inizio era stata abbastanza contestata e che come abbiamo anticipato non era stata esattamente accettata da tutti. Ma cosa nascondeva quella frase così generica, non è stata accettata da tutti? Beh, nascondeva in realtà una rabbia che dopo la morte di Maometto esplose perché molte tribù che avevano giurato fedeltà al profeta si rifiutarono di fare lo stesso col nuovo califo, sbucarono come funghi, o almeno così ci raccontano le fonti islamiche, nuovi profeti, o meglio come loro li chiamano, degli apostati, e la cosa portò ad una guerra che durò un anno, alcuni parlano al plurale guerre, chiamate Guerre della Ridda, e che per misero ad Abu Bakr e ai suoi, dopo, ve lo anticipo, avere addirittura rischiato di scomparire dalla faccia della terra, di essere loro stessi conquistati, permisero invece loro di ricreare un nuovo impero che fu la base della successiva espansione islamica. Ma come andarono le cose in quest'anno così particolare? E soprattutto, perché questo ne parleremo questa volta alla fine, che cosa pensano gli storici di questi avvenimenti? Beh, come sempre, saranno interessanti entrambi i racconti, sia quello tradizionale islamico, che come potete immaginare man mano che ci avviciniamo al contatto con il mondo persiano, con il mondo cristiano, diventa ovviamente sempre più credibile, e dall'altra parte che cosa ci raccontano gli storici, che come vedremo è a sua volta tanto tanto interessante. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, se vi siete persi le scorse puntate, e quindi forse alcune cose rischiate di non capirle, in descrizione trovate la playlist con tutti i video di questa serie. Adesso però, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Lo ridirò anche alla fine, ma so che qualcuno si perde sempre la conclusione dei video, ricordatevi che le prossime due settimane saranno di pausa, usciranno dei video, ma quasi tutte le serie si interromperanno, e quindi non ci saranno nei prossimi weekend i video dedicati al mondo arabo, ma riprenderemo il weekend dopo il weekend di Ferragosto, quindi ci passeranno due settimane abbondanti prima che si riprenda con questa serie. Però con oggi devo dire che chiudiamo un discorso generale e non lasciamo niente di aperto. È uno dei motivi per cui venerdì ho fatto uscire un'altra puntata, perché altrimenti avremmo dovuto iniziare la storia dell'espansionismo nei confronti della Persia, interromperla per due settimane, e la cosa non mi piaceva. Ripartiamo però dalla morte di Mahometto, nel 632 d.C. Dopo la sua morte, come abbiamo detto, Abu Bakr aveva preso il potere, e a contestarlo non erano stati solo alcuni nella cerchia di Mahometto, ad esempio tutti coloro che credevano che il vero successore sarebbe dovuto essere lì, di questo ne abbiamo già parlato, è una delle basi della scissione tra sciiti e sunniti, ma anche, come dicevo, molti di coloro che avevano giurato fedeltà a Mahometto, e che ora avevano riacquistato la loro libertà, per così dire. Questo califo, appunto il primo, peraltro, quanto pare a prendere il nome appunto di califo, in effetti sarà il primo dei cosiddetti califi Rashidun, che letteralmente vogliono dire califi ortodossi, i primi quattro califi della storia musulmana, che non sono di una singola dinastia, sono chiamati in questo modo perché erano tutti e quattro compagni di Mahometto, spesso tra i primi convertiti, talvolta addirittura suoi parenti. Dopo l'ultimo di questi califi che racconteremo a lì, invece inizierà la prima vera e propria dinastia, ma ne parleremo decisamente più avanti. Torniamo però al nostro Abu Bakr. Una volta preso il potere, Abu Bakr si trovò innanzitutto a dover decidere cosa fare di una spedizione militare che lo stesso Mahometto aveva organizzato nei suoi ultimi mesi di vita. Credo ricorderete che la prima vera spedizione verso nord nel territorio romano, nel territorio bizantino, ostentata dagli uomini di Mahometto, secondo la tradizione, aveva portato alla battaglia di Mutà, in cui le forze di Mahometto erano state travolte e battute e solo Khalid ibn al-Walid, la spada di Allah diventato proprio in quel momento un comandante, era riuscito a salvarne una parte. Mahometto però aveva deciso che bisognava ritentare di spingersi verso nord, anche perché noi quelle zone le definiamo parte dell'impero romano, ma erano abitate da tribù arabe di religione cristiana e quindi per Mahometto erano in qualche modo un territorio su cui si poteva diffondere il suo rinnovamento religioso. Per questo aveva organizzato una spedizione, una spedizione ovviamente molto più numerosa di quella che sarebbe dovuta partire anni prima, e l'aveva affidata ad Usama bin Zaid, che secondo la tradizione avrebbe avuto appena 17 anni. Ma perché affidare una spedizione così importante ad un ragazzo così giovane? Beh, secondo quanto si racconta, innanzitutto era un abile guerriero e anche un abile comandante. Usama bin Zaid era stato tra quei pochi che durante la battaglia di Unain, ve la ricordate, quella battaglia che aveva combattuto subito dopo la presa di Mecca quando i suoi soldati erano stati presi di sorpresa in mezzo ad una valle, avevano rischiato di morire, era stato poi lui insieme a pochi altri che avevano mantenuto stabile il fronte, avevano permesso di controbattere, di vincere poi la battaglia. Bene, Usama bin Zaid era tra coloro che, insieme al profeta, quei dieci, secondo la tradizione, che avevano permesso di vincere quella battaglia. Inoltre, il padre di Usama era morto proprio durante la battaglia di Mutà, e quindi secondo Maometto lui era il perfetto candidato per poter guidare quella spedizione. Non è ben chiaro, perché ci sono in effetti due versioni diverse, se quando morì Maometto Usama fosse già partito o fosse in procinto di partire. Fatto sta che, anche se era già partito, venne comunque raggiunto dalla notizia della morte di Maometto, venne raggiunto dalla successione di Abu Bakr, e tornò indietro, perché temeva appunto che potesse, in qualche modo, questa successione portare a dei problemi, e non voleva condurre via le truppe migliori a disposizione del nuovo califo in una missione a questo punto secondaria. Abu Bakr, però, decise che quella missione sarebbe dovuta continuare, probabilmente perché non voleva contravvenire ad un ordine emanato dallo stesso Maometto, anche perché, se molti dubitavano di lui, opporsi a quanto fatto da Maometto forse non era la strada migliore. E il risultato fu che Usama continuò questa sua spedizione, raggiunse prima di tutto Tarek, ve lo ricordate, città nel nord dell'Arabia, che era già stata raggiunta da Maometto stesso, e che saputa della morte di Maometto aveva smesso di pagare lo zakat, la tassa prevista, e ovviamente arrivò l'esercito e questa tassazione venne ripristinata, e poi si spostò verso la cosiddetta Arabia Petrea, dove pare che abbia sconfitto un esercito di arabi, ma su questo non ci sono grosse informazioni. Inutile dire che anche su questo le fonti cristiane tacciano completamente e quindi non sappiamo effettivamente cosa sia successo. La spedizione, però, comunque non venne condotta molto in profondità, perché nonostante Abu Bakr gli avesse dato l'ordine di fare come gli era stato già detto da Maometto, capì che c'era necessità di quelle truppe e decise di rientrare verso Medina. E in effetti così era. Abu Bakr, chissà, forse aveva un po' rimpianto di averlo fatto partire, perché in effetti la situazione in Arabia si era ben presto fatta molto complicata dopo la morte di Maometto. Moltissime tribù, anche tribù che vivevano a poca distanza da Medina, infatti una volta saputa la morte del profeta, avevano deciso di staccarsi dai territori sottoposti appunto al nuovo califo. Talvolta lo avevano fatto tornando alla religione che seguivano precedentemente. Molti invece avevano fatto una distinzione, avevano detto continueremo a seguire la religione di Maometto, continueremo a seguire i suoi dettami religiosi, ma smetteremo di pagare lo zakat e di pagare le tasse. Questo lo vedremo poi verso la fine come viene interpretato dagli storici. le fonti islamiche non spiegano nulla di più ma mettono molto in chiaro che Abu Bakr ovviamente a tutto questo si oppose anche perché temeva che venuta meno questo pagamento di una tassa che serviva anche a mantenere tutto il sistema, tutto appunto questo sistema potesse cadere e l'unione che era stata creata da Maometto potesse andare a cadere. Oltre a questo però nello stesso momento in realtà già nei mesi precedenti la morte di Maometto quando fu chiaro che ormai era debole ed era malato iniziarono a sbucare in varie zone dell'Arabia dei profeti che appunto dalle fonti islamiche vengono normalmente chiamati apostati i quali di solito partivano da quello che era l'insegnamento di Maometto e lo modificavano in parte o semplicemente dicevano di ricevere anche loro notizie da Dio stesso e quindi di dover essere loro a succedere a Maometto. Di tutti questi profeti quello probabilmente più importante più conosciuto anche nel mondo islamico è il cosiddetto Musailima ora Musailima teoricamente è un nomignolo perché secondo molti il nome vero sarebbe stato Muslama che viene normalmente chiamato Musailima che è una specie di diminutivo diminutivo non usato ovviamente in tono vezzeggiativo ma in tono sminuente come dire il piccolo Muslama proprio a sminuirlo talvolta viene chiamato rifacendosi ad una lettera che gli avrebbe mandato Maometto quando era ancora in vita addirittura Musailima l'arcimentitore il super mentitore il grande traditore insomma è un termine che si può tradurre in molti modi ma credo abbiate capito un po' dove stiamo andando a parare ma chi era questi beh era membro di una tribù che viveva nella zona centro orientale dell'Arabia per intenderci intorno a dove oggi c'è la capitale Riad spostandosi poi verso il Bahrain era membro di una tribù che prima dell'arrivo di Maometto questo ce lo dicono le stesse fonti islamiche era cristiana ma dopo essere venuta a contatto proprio con Maometto stesso aveva deciso di convertirsi Musailima lo chiamerò così lo so che non è bello chiamare una persona per un mignolo ma su tutte le fonti è chiamato in questo modo quindi altrimenti c'è il rischio poi di fare confusione ad ogni modo Musailima ad un certo punto però iniziò ad annunciare che anche lui era un profeta iniziò ad annunciare di ricevere anche lui informazioni che giungevano direttamente da Dio esattamente come Maometto e iniziò a sua volta a dare delle indicazioni se all'inizio non furono in tantissimi a seguirlo quando Maometto si ammalò e perse la sua presa anche religiosa su chi lo seguiva molti iniziarono a legarsi a Musailima i quali secondo le fonti ad un certo punto avrebbero raccolto addirittura 40.000 persone che lo seguivano c'è da dire che come abbiamo visto spesso le fonti islamiche tendono ad aumentare il numero degli avversari è una cosa che in effetti fanno tutte le fonti in quell'epoca ma in cosa consistevano queste differenze che portarono appunto a chiamarlo un'apostata bene nel suo caso le fonti islamiche ci danno in effetti delle informazioni ci dicono che ad esempio lui era convinto che bisognasse pregare solamente tre volte e che non fosse necessario farlo orientati verso la caba ma si potesse farlo in qualunque direzione credeva che Dio avesse dato diritti identici a uomini e donne quindi senza nessuna sottomissione di una all'altro credeva che la poligamia non dovesse essere permessa credeva che le persone non dove i maschi non dovessero essere circoncisi a posteriori uno potrebbe interpretarlo come qualcosa di moderno per l'epoca ovviamente viene interpretato come un'apostasia perché è molto diverso rispetto a cosa diceva invece Maometto è particolare che le fonti dell'epoca ricalchino l'epoca in realtà sono poi fonti di due secoli dopo ma interpretano queste cose in maniera negativa ci fa proprio capire come lo scorrere del tempo cambi l'approccio a certe cose ad ogni modo Musa e Lima era sicuramente il più noto ed è quello che è arrivato maggiormente a noi ma non era l'unico un altro profeta abbastanza noto che vi nomino perché ci seguirà poi nella storia si chiamava invece Tulaya e in questo caso era un mercante arabo che era rimasto come Maometto fino all'anno prima la sua morte il quale una volta indebolitosi il profeta aveva annunciato di ricevere appunto anche lui notizie direttamente da Dio di essere di ricevere nuove informazioni e aveva stretto intorno a sé alcune delle tribù ma poco a nord di Medina stessa le quali avevano come dire un po' approfittato della situazione per evitare per smettere di pagare la famosa tassa che veniva richiesta oltre a questi l'ultima che vi cito ma in effetti in tante fonti ne sbucano molti altri anche in varie zone dell'Arabia oltre a questi c'era anche una profetessa donna che si chiamava Sayah o Sajah la quale appare così contano le fonti islamiche fosse già una profetessa un oracolo quando ancora seguiva un culto politeista e aveva mantenuto queste sue caratteristiche anche convertendosi al culto di un dio solo Sayah aveva legato con Musa e Lima e i due oltre ad unire i propri seguiti ad un certo punto si erano addirittura sposati insomma in qualche modo seguendo poi la stessa strada il primo però a muoversi contro Medina contro Abu Bakr fu ovviamente quello più vicino cioè Tulaia ora secondo quanto si racconta Tulaia andò da Abu Bakr pochi giorni dopo la morte di Mahometto dopo che Umar era già partito verso nord e prima ovviamente del suo ritorno quando arrivò da Abu Bakr gli fece la richiesta che tanti altri gli avevano fatto continuare a pregare come aveva insegnato loro Mahometto lui non pare che stesse cercando di rivoluzionare la religione ma allo stesso tempo smettere di pagare la tassa ed essere liberi inutile che vi dica che Abu Bakr rispose picche che disse assolutamente no dovete pagare la tassa rinunciare a qualunque da di libertà e rimanere legati a me che sono il successore del messaggero di Allah il problema è che quando questa delegazione giunse a Medina si resero conto che di soldati non ce n'erano che non c'erano guerrieri che erano partiti per la spedizione addirittura mancavano i cammelli dromedari che sarebbero da guerra che sarebbero dovuti servire per condurre una campagna insomma si resero conto che Abu Bakr parlava in maniera molto convinta ma poi non aveva le armi per difendere questa sua convinzione ad ogni modo una volta tornati al loro accampamento decisero quindi di prendere rapidamente le armi marciare verso Medina credendola assolutamente senza difese e provare a metterla sotto assedio quando arrivarono nei pressi della città però avanzarono con forse un po' troppo timore il risultato fu che furono notati Abu Bakr mise insieme un piccolo esercito con quello che aveva e riuscì a respingere il loro primo attacco ma da chi era formato questo piccolo esercito? beh era formato dai Banu Hashim che se ricordate erano la tribù di Mahometto i quali ovviamente non erano partiti per la spedizione verso nord perché si erano fermati a piangere il loro congiunto e ora erano l'unica vera difesa contro questi invasori Abu Bakr credendo dopo questa prima vittoria di poter risolvere rapidamente la questione cercò di prendere tutti i soldati che aveva tutti i guerrieri che aveva li caricò su dei cammelli normalmente usati per motivi di commercio non da guerra e li mosse direttamente verso l'accampamento nemico quando però arrivarono nei pressi dell'accampamento i nemici che li avevano scorti e li stavano aspettando fecero scattare una trappola li assalirono iniziò il combattimento ma il rumore di questo combattimento fece spaventare così vengono raccontato dalle fonti islamiche che ovviamente non parlano di sconfitta sia mai vennero fecero spaventare i cammelli che non erano appunto abituati al combattimento e li fecero fuggire ovviamente Abu Bakr però non si perse d'animo e decise di organizzare un secondo attacco questa volta notturno gli avversari stavano riposando pensando di essere protetti come se non ci fossero dei nemici a un metro da loro e così Abu Bakr potè piombare sull'accampamento di notte e metterlo in fuga una parte dell'esercito venne sconfitto il resto si ritirò in una città poco più a nord Zucchissa che faceva effettivamente da base per questi attacchi ma una volta giunti lì vennero inseguiti dalle forze di Abu Bakr e ancora una volta sconfitti purtroppo però Abu Bakr non aveva forza sufficienza per tenere questa città e così dopo avervi scacciato le forze avversarie fu costretto a ritirarsi nuovamente a Medina insomma aveva risolto questa prima questione ma non era riuscito a catturare il profeta che gli si opponeva e soprattutto aveva in realtà solo rimandato quello che sembrava essere l'inevitabile in realtà due cose permisero di cambiare un po' le carte in tavola innanzitutto saputo della prima vittoria di Abu Bakr alcune tribù che lo avevano messo da parte forse un po' troppo dubbiose decisero di tornare sui loro passi e nuovamente di legarsi a lui cosa che ovviamente gli permise di ingrossare un po' il suo esercito soprattutto di togliere truppe ai suoi avversari l'altra cosa fu che come abbiamo detto Usama che avrebbe dovuto condurre una campagna ben più lunga ci aveva ripensato ed era tornato indietro riportando con sé le truppe che permisero ad Abu Bakr di avere finalmente gli uomini di cui aveva bisogno a questo punto Abu Bakr decise di condurre delle campagne parallele per riconquistare tutta l'Arabia in un solo colpo campagne che probabilmente sono anche giustificate dalla volontà di evitare che i suoi avversari più numerosi di lui potessero riunirsi creare un unico grande esercito e affrontarlo in questo modo creò un esercito principale che darà a Khalid Ibn Walid la spada di Allah il miglior generale che aveva a disposizione e creò eserciti più piccoli che avrebbero dovuto invece muoversi nelle varie direzioni verso sud verso lo Yemen verso sud-est verso l'Oman o anticipare il viaggio per andare il fatto che sarebbe stato fatto appunto da Khalid Ibn Walid per iniziare ad impegnare Musa e Lima l'esercito principale invece avrebbe dovuto agire per affrontare i due avversari principali prima sconfiggere Tulaia e poi lo stesso Khalid e poi andre lo stesso Musa e Lima iniziamo seguendo proprio l'esercito principale quello di Khalid ora vi anticipo che le guerre della ridda sono un sacco di scontri un sacco di battaglie un sacco di popoli un sacco di comandanti io ovviamente vi farò un grosso riassunto perché innanzitutto perché nominarveli tutti vorrebbe dire semplicemente farvi un elenco la quasi totalità di questi personaggi non torneranno più nella nostra storia e non ha nessun senso andarle ad approfondire secondariamente perché in realtà il grosso di questi scontri sono un po' fini a se stesso e non vengono descritti neanche più di tanto dalle fonti islamiche quindi vi elencherei dei nomi di battaglie che non aggiungerebbero nulla alla storia cerchiamo di concentrarci su quelli principali e capire un po' in che direzione si mossero i musulmani come vi dicevo partiamo però da Khalid la cui prima cosa da fare ovviamente fu mettersi in caccia di Tulaia quando riuscì ad incontrarlo le forze in campo erano decisamente favorevoli all'apostata chiamiamolo così all'altro profeta Tulaia il quale secondo le fonti islamiche poteva contare su 30-35 mila uomini mentre Khalid ne aveva a disposizione solo 6 mila è abbastanza chiaro però e ce lo fanno anche capire le stesse fonti islamiche che in realtà di questi 35 mila uomini la maggioranza non fossero veramente guerrieri e potesse contare su un nucleo di non più di 700-1000 guerrieri mentre gli altri erano dei soldati che diciamo avevano molta meno esperienza la tattica di Khalid fu apparentemente molto semplice fece disporre i suoi uomini su un fronte molto ampio per cercare di pattare il fronte dei suoi avversari che ovviamente erano più numerosi e si lanciò all'attacco contando un po' anche sull'effetto sorpresa e sulla paura che il suo nome e quello dei suoi uomini evocava la prima cosa che fece fu di cercare di colpire le ali cercando ovviamente di aggirare le posizioni avversarie mentre nel contempo spingeva verso la parte centrale dove si trovava proprio il nucleo di guerrieri questi 700-1000 guerrieri che erano più forti a disposizione del profeta quando le cose iniziarono ad andare male il capo di questi guerrieri si presentò da Tulaia chiedendogli che cosa dovesse fare chiedendogli che cosa gli dicesse Allah di fare ma Tulaia pare che lo rimandasse indietro semplicemente con delle parole di conforto convincendolo a combattere ancora quando la situazione si fece più difficile il nostro tornò di nuovo a parlare con il suo profeta che ancora una volta però non ebbe parole ispirate la terza volta che questo successe il capo di questi guerrieri pensò che effettivamente Tulaia non doveva essere un vero profeta non doveva essere in contatto con Allah e quando si rese conto che Tulaia aveva già preparato tutto perché lui e la sua famiglia potessero scappare al minimo segno di difficoltà capì che le cose sarebbero andate male e quindi prese i suoi guerrieri e gli ordinò di sganciarsi lasciando il campo di battaglia perso il nucleo più forte del suo esercito e con Tulaia oramai in fuga tutto il resto dell'esercito appunto si squagliò e Khalid riuscì a vincere senza grossi problemi questa battaglia nei giorni successivi inseguì le forze del suo avversario le battè in tante altre piccole battaglie molti di questi decisero di convertirsi e alla fine catturò lo stesso Tulaia il quale di fronte alla scelta su cosa fare decise che si sarebbe sarebbe tornato a seguire avrebbe rinunciato a definirsi un profeta sarebbe passato a servire Abu Bakr addirittura pare avendo una conversione così reale da portarlo a chiedere di poter combattere all'interno dell'esercito musulmano Abu Bakr non gliene darà mai il permesso il suo successore invece lo farà e nelle battaglie che combatteranno i musulmani poi una volta che si spingeranno verso nord contro i romani e contro i sasani parteciperà anche lo stesso Tulaia il quale pare che abbia poi combattuto molto coraggiosamente diversamente da quanto fatto durante la sua di ribellione e sia poi morto con molto onore durante una battaglia a questo punto ovviamente Khalid si volse verso l'obiettivo grosso cioè verso Musailima che se vogliamo seguire questa specie di strada si trovava un po' più a sud e un po' più a est vi ho detto prima però che Abu Bakr aveva già mandato degli uomini da Musailima ma non per affrontarlo ma semplicemente per tenerlo d'occhio molto probabilmente per evitare che si potesse unire agli altri eserciti in questo modo divenendo imbattibile l'ordine per il comandante di quel piccolo esercito era quello semplicemente di osservare tenere d'occhio e non combattere a comandare quell'esercito c'era un comandante chiamato Ikrima il quale pensate era il figlio di Abujal se ricordate qualche settimana fa abbiamo nominato Abujal come il comandante delle truppe di Mecca che aveva guidato la prima battaglia tra le truppe di Mecca e quelle di Maometto cioè la famosa battaglia di Badr la prima vittoria di Maometto ora io mi ovviamente Ikrima si era convertito e per questo era diventato un comandante ora io mi rendo conto che messo così può sembrare che vi stia raccontando Beautiful perché sono tutti parenti di qualcuno ma se ci pensate è una questione legata al fatto che stiamo sempre parlando di Capicran Capitribu cioè gente che aveva potere sarebbe come dire che le battaglie le guerre in Europa tra il 1500 e la prima guerra mondiale furono mediamente combattute dai figli di quelli che avevano combattuto la campagna precedente ma è normale cioè le famiglie nobili più o meno sono sempre quelle il ricambio è abbastanza minimo figuriamoci poi su un tempo così breve ad ogni modo come vi dicevo Ikrima che era convinto di aver trovato un momento per poter attaccare Musa e Lima venne invece sconfitto quando Abu Bakr lo venne a sapere ovviamente si arrabbiò tantissimo il primo ordine che diede fu a Ikrima di lasciare quella posizione lasciando lì solo una parte dei suoi uomini per andare a spostarsi verso sud verso Loman per dare una mano alle truppe che si trovavano qui una specie di punizione allontanandolo da quella che sarebbe stata la battaglia principale purtroppo per Abu Bakr a quanto pare anche il comandante delle truppe rimaste in loco che aveva ricevuto un ordine preciso di non attaccare assolutamente lo contravenne e ancora una volta credendo di poter trovare il momento giusto attaccò e ancora una volta venne sconfitto così quando Khalid finalmente arrivò raccolse queste ultime truppe portando al suo esercito circa 13.000 uomini dall'altra parte Musa e Lima grazie a queste due vittorie aveva ricompattato le tribù che come vi dicevo inizialmente grazie ai proclami di Abu Bakr avevano iniziato a staccarsi e poteva schierare contro di lui un esercito di ben 40.000 uomini o almeno così ci dicono ovviamente le fonti islamiche la battaglia che ne venne fuori fu la battaglia di Al-Yamama una battaglia che diciamolo non ha avuto una tattica chissà quanto elaborata molto semplicemente i due eserciti si sono scontrati l'uno contro l'altro all'ultimo sangue il risultato ne è stato un macello terrificante in cui entrambi gli schieramenti hanno avuto perdite molto pesanti ad un certo punto lo schieramento di Musa e Lima è andato in rotta una parte si è ritirato verso una specie di giardino fortificato non è ben chiaro le fonti continuano a citare questo giardino fortificato non ho trovato che cosa intendano ma si dovrebbe essere trovato lì vicino ad ogni modo entrano in questo giardino fortificato per trasformarlo appunto in una piccola fortezza ma le forze di Kalide riescono a penetrare si racconta secondo la leggenda grazie a un soldato che coraggiosamente si sarebbe fatto hissare sulle mura avrebbe sconfitto le guardie e aperto uno dei cancelli all'interno di quel giardino che proprio per questo prese il nome colloquiale di giardino della morte avvenne un ulteriore massacro altri morti e alla fine lo stesso Musa e Lima cadde trafitto da un giavellotto con la morte di Musa e Lima la ribellione anche di questo profeta terminò la moglie peraltro che vi ho detto anche lei si definiva una profetessa si convertì e visse a lungo come una musulmana ma in questo modo Abu Bakr era riuscito a risolvere la questione forse più complessa più impellente perché per quanto Musa e Lima abbia spazio nei racconti è probabile che in effetti una certa importanza una certa sfida l'abbia rappresentata per il califo ma dopo ne parleremo e in questo modo a riportare sotto suo controllo tutta la parte centro-settentrionale dell'Arabia c'è una particolarità legata a questa battaglia vi ho detto che fu una battaglia molto sanguinosa e ovviamente anche l'esercito musulmano ebbe delle perdite pesantissime tra queste perdite ci furono 360 uffaz uffaz chiedo scusa che cosa sono gli uffaz bene erano persone che avevano imparato una parte di tutto quello che Maometto aveva detto tutte le tutte le le sure che Maometto aveva ricevuto teoricamente dall'arcangelo Gabriele e che poi aveva divulgato e le portavano con sé a memoria ora questo termine è ancora utilizzato oggi per chi ricorda memoria parti o tutto il Corano ma all'epoca teoricamente era un ruolo ancora più importante perché dato che il Corano non era ancora stato trascritto interamente vi ricordate che nella puntata di domenica scorsa vi ho raccontato che teoricamente secondo quanto si crede nel mondo islamico venne messo prescritto proprio sotto Abu Bakr bene non essendo ancora stato trascritto in forma scritta appunto questo ricordo orale era importantissimo e se morivano così tante persone che ne ricordavano una parte il rischio è che alcune parti potessero prima o poi essere dimenticate o scomparire cosa che ovviamente sarebbe stata gravissima quindi proprio in seguito a questo avvenimento Abu Bakr diede ordine di mettere per iscritto la prima versione del Corano vi ho raccontato che secondo gli storici comunque il Corano è antichissimo e se non è stato veramente fatto nel primo o secondo anno dopo la morte di Maometo fu comunque completato entro i 10-15 anni successivi come fecero a prendere questo Corano? bene un po' come abbiamo detto fecero con gli Adit cioè presero tutte le persone che dicevano di ricordare alcune sure gliele fecero recitare e se due o più persone ricordavano la stessa sure la presero sostanzialmente per buono ovviamente se non entrava in contraddizione con altri ricordi insomma ricrearono progressivamente questo Corano chiedendo a chi aveva ascoltato direttamente da Maometo le sue parole questa parte di guerra chiude credo quella un po' più nota un po' più famosa come vi dicevo però nell'introduzione in realtà ci furono tantissimi scontri durante queste guerre della Ridda e ve li un po' risparmio perché in effetti sono cose che su cui non ritorneremo più e che non hanno una grossa importanza nella nostra storia ad esempio nelle tribù della zona del Bahrain si arresero praticamente senza combattere in seguito ad una serie di scontri e soprattutto in seguito all'arrivo proprio dell'esercito del Califo però come vi dicevo tra la fine del 632 e febbraio marzo del 633 di scontri ce ne furono parecchi ve ne cito ancora due perché sono interessanti e poi li riprenderemo dopo il primo avvenne nella zona dell'Oman l'Oman come abbiamo raccontato in realtà non solo l'Oman attuale ma anche la zona degli Emirati l'Oman e la zona degli Emirati come abbiamo raccontato era stata conquistata dall'impero Sasanide che proprio in quegli anni si era ritirato perché perché come abbiamo raccontato nella serie Imperatore se poi ci torneremo quando riprenderemo questa serie quando parleremo dell'invasione della Persia in quegli anni era in corso una guerra civile bene le tribù che avevano si erano liberate dal governo dei Sasanidi in particolare quella degli Al-Azd ovviamente non avevano nessuna intenzione di finire a questo punto sotto il dominio di Medina e avevano eletto un loro capo Malik il quale si era opposto proprio alle forze musulmane non è chiaro se ci fosse solo un'opposizione di tipo politico un'opposizione di tipo religioso non dimentichiamoci che su queste cose il Corano tende sempre un po' a sorvolare ma gli storici sanno che in questa zona la religione più diffusa era l'ebraismo quindi non è ben chiara questa situazione non è ben chiaro se l'Islam fosse già arrivato o sia arrivato insieme a quest'armate fatto sta che al-Malik per alcuni mesi riuscì a difendersi poi con l'arrivo dei primi rinforzi da Abu Bakr che pensate attraversarono il Rub al-Khali il grande deserto del sud dell'Arabia il niente più totale grazie a quei rinforzi venne combattuta la battaglia di Dibba che è una battaglia molto nota nel mondo musulmano e appunto questa zona venne occupata ed entrò a far parte dei territori che giuravano fedeltà proprio al Califo un po' più complesso fu invece a riportare l'ordine nello Yemen cioè spostiamoci verso leggermente sud e soprattutto verso ovest lo Yemen in effetti quando morì Moometto era già in rivolta perché guidato da un altro profeta tal Abala chiamato anche Abala il velato perché si racconta che portasse un velo davanti al volto si era già ribellato appunto nell'ultimo anno di vita del profeta su questo Abala le fonti islamiche scrivono tutto il peggio possibile raccontano che fosse una specie di mago che facesse dei trucchi per fingere che fossero dei miracoli che girasse con una scimmietta ammaestrata insomma lo prendono veramente a male parole e raccontano anche una fine non esattamente gloriosa perché pare che fosse stato ucciso il giorno prima della morte di Moometto in realtà lo Yemen si ribellò più volte si ribellò nei mesi successivi e anche qui ci fu una spedizione che pose fine alla ribellione ma tornò a ribellarsi anche sotto il regno del successore di Abu Bakr proprio a dire che questa zona era molto riottosa al governo centrale perché anche qui vi ricordate la prima puntata che abbiamo fatto dedicata al mondo arabo prima dell'arrivo dell'Islam nello Yemen aveva sede il più grande regno che era esistito fino a qualche decennio prima l'arrivo dell'Islam che poi era stato conquistato prima dal regno di Aksum e quindi dalla zona dell'Etiopia e Eritrea poi dai Sasanidi ma sicuramente l'idea di creare un proprio regno autonomo in questa zona c'era ed era ancora molto forte anche qui non sappiamo bene perché le fonti si contraddicono se l'Islam fosse già arrivato prima di questa invasione o se appunto sia giunto insieme alle armate di Abu Bakr quel che è certo è che nel giro di circa un anno poco più di un anno Abu Bakr era riuscito nel suo intento aveva unito sostanzialmente tutta l'Arabia partendo dall'Arabia Saudita attuale fino appunto alla zona dell'Oman e dello Yemen li aveva uniti sotto il suo controllo aveva unito le tribù queste tribù pagavano dei tributi aveva ovviamente dovuto mettere dei propri rappresentanti con eserciti in varie zone per poter mantenere il controllo ma ora aveva un territorio vasto aveva nuove truppe e quelle nuove truppe avrebbe potute usarle per muoversi verso nord che sarà quello che racconteremo a partire dalle prossime puntate come vi dicevo saranno tra un po' più di due settimane prima di chiudere però vorrei tornare su quello che vi ho raccontato e provare a rivederlo sotto certi aspetti storici perché come vi dicevo sono molto interessanti partiamo dalla questione dei profeti ne abbiamo già parlato un po' domenica scorsa nei tempi di complessi dal punto di vista culturale dal punto di vista politico le invasioni i tempi che stanno cambiando spesso compaiono dei profeti che si rivolgono a un popolo che si sente oppresso sente che tutto sta cambiando e gli danno una speranza ora che ci fossero tanti profeti all'epoca di Maometto è una cosa come dire comprensibile anche perché è possibile che varie tribù che tribù avessero cercato una propria via verso un rinnovamento religioso la cosa interessante è che probabilmente secondo gli storici il fatto che tutti questi profeti siano poi sbucati ufficialmente dopo la sua morte fa pensare che in realtà inizialmente Maometto essendo quello più forte li avesse come dire assorbiti e che questi avessero deciso di legarsi proprio Maometto per una questione di potere e di forza anche religiosa ma che morto Maometto non riconoscendo come un'autorità religiosa il suo successore cioè Abu Bakr ma semplicemente come un'autorità civile avessero fossero tornati alla loro visione talvolta anche diversa rispetto a quella di Maometto e che questo ci mostri una rabbia molto più in evoluzione molto più ricca di diversità di quanto invece il Corano o le le storie della vita di Maometto raccolte un secolo e mezzo due secoli dopo la sua morte sono in grado di raccontarci c'è poi un aspetto interessante che è proprio quello che vi dicevo legato al potere civile di Abu Bakr secondo alcuni storici con la morte di Maometto fu a tutti gli effetti Abu Bakr a creare il vero passatemi in termine anche se ancora piccolo impero musulmano perché invece di avere una serie di tribù legate a Maometto per questioni principalmente religiose dopo la sua morte Abu Bakr ha trasformato il tutto in un qualcosa di più civile passatemi in termine nel senso di contrapposto religioso non di civile nel senso di gentile e delicato proprio perché ha trasformato un dominio che si basava sul fatto di essere il messaggero di Dio in un dominio politico e anche il fatto di avere insistito come ci dicono le fonti islamiche perché venisse pagata la tassa oltre che si continuasse a pregare come aveva detto Maometto in qualche modo sembra indicarci tutto questo altri storici invece ritengono che tutta questa storia sia stata un po' reinterpretata a distanza di un secolo e mezzo due secoli cioè che in realtà alla morte di Maometto tantissime tribù tanti capi tribù non si siano più sentiti legati a lui per un vincolo passatemi in termine di vassallaggio secondo questi storici è una prassa abbastanza comune in tante società soprattutto quelle tribali o quelle che sono nomadi si spostano il fatto che alla morte di un capo non sia immediato che tutti coloro che erano sottoposti a lui diventino sottoposti al suo successore ma che questo spesso necessiti di tutto un processo di verifica di riconoscimento bene è possibile che sia quello che è successo effettivamente col dominio di Abu Bakr e questa storia potrebbe nascondere il fatto che in realtà l'opposizione alla presa di potere di Abu Bakr fu più forte di quello che le fonti islamiche ci vogliono far credere e che ci fu una specie di guerra civile interna quindi questi apostati in realtà erano comunque membri dell'entourage se così vogliamo di Maometto comunque non erano così diversi dal punto di vista religioso ci fu invece una guerra civile interna solo legata al potere di Abu Bakr è una questione però molto spinosa perché perché sul potere e la legittimità di Abu Bakr si basa la grande divisione tra sunniti e sciiti non solo su questo lo vedremo andando più avanti poi con il califo Ali e su questa e quindi ogni volta che si va a ragionare di queste cose io sono sicuro che sbuccherà anche nei commenti i sunniti diranno che se si dice che Abu Bakr non aveva tutta questa sicurezza nel potere e perché si usano fonti sciite se si dice che invece Abu Bakr aveva preso il potere con convinzione allora gli sciiti diranno che si usano fonti sunnite e quindi come vedete è sempre un po' complicato purtroppo sono eventi molto specifici molto piccoli e praticamente impossibile poterli verificare dal punto di vista storico che sia avvenuto qualcosa e che ci fossero però degli altri profeti su questo possiamo essere ragionevolmente sicuri un po' perché in effetti pochi anni dopo i musulmani ma uno o due anni dopo i musulmani metteranno la testa fuori e saranno effettivamente un unico popolo che riunisce tutta l'Arabia un po' perché questa presenza di profeti che sembra mostrare non una così chiara adesione totale all'Islam e fin dall'inizio è un qualcosa di non così tanto positivo e che se è sopravvissuto attraverso i racconti è perché evidentemente qualcosa del genere deve essere successo ma ripeto come sempre gli storici fanno varie teorie ma manca sempre un po' quella pistola fumante su queste cose per poterle dimostrare ad ogni modo io mi fermo qua come vi ho detto il prossimo weekend e quello successivo non ci sarà la serie sugli arabi ci saranno delle aperistorie in sostituzione perché facciamo due settimane di pausa e quindi queste puntate ovviamente occupano molto più tempo così ci rilassiamo un pochettino tutti ma la settimana dopo con nuovo con due puntate a settimana riprendiamo il ritmo pieno torneremo a raccontare questa storia diciamo che di cose ne abbiamo messe tante abbiamo creato la base adesso bisogna poi parlare dell'espansione e dell'esplosione per chi chiede ogni tanto quando riparte imperatore come già detto quando con l'espansione araba raggiungeremo un nuovo imperatore lo racconteremo poi torneremo a raccontare agli arabi e andremo avanti così ve lo dico già perché è un pochettino più pratico quantomeno fino all'arrivo degli arabi in Spagna è possibile che arriveremo fino al momento in cui gli omagliatti lasciano il posto agli abbassidi e poi interromperemo questa serie che si chiuderà così e torneremo a fare semplicemente imperatore fino all'arrivo delle crociate quando vi ho già detto che poi riprenderemo da lì ad ogni modo come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Sabine Empe spero di averlo pronunciato bene ti ringrazio qualunque sia la pronuncia per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao